ma comprate una videocamera seria ed ora è il momento che tutti attendavamo qui all'Arena Duval in via Mecenate a Mirano abbiamo qui un elicottero che è costato tante fatiche e tanto duro lavoro in banca tanti soldini, tanti sghei ma finalmente è arrivato il T-Rexino 100 è migliorato molto il nostro DG, vedremo ora l'evoluzione vediamo che setta è molto nervoso questo elicottero bravo Gigione numero che culo cosa che fa? sono troppo bravo a riprendere comunque, dopo vedrai non riesci a farlo arrivare qua sopra a me, ti fai tipo che lo impegni un po' e lo derapi? non c'è la batteria non c'è la batteria non c'è la batteria non c'è la batteria è finito, farò terrare Gigi eh? eeeeeehh volo volo ok grazie 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 grazie